Si ricordava di me e della mia diagnosi così dolente. Mi visitò tre volte e alla fine disse «Non è possibile! È impossibile! È incurabile! Non esiste!» Nel 96 Vera Beretic subì una frattura alla spalla con paralisi dei nervi della mano sinistra e dell'avambraccio. Quando la paralisi passò, sossero delle complicazioni e una cosiddetta distrofia di Sudek con distruzione del tessuto e decalcificazione delle ossa. Malgrado le tante terapie, soffrì per tre anni dolori insopportabili. Dopo tre anni, i medici mi dissero «Resterai invalida e avrà sempre forti dolori». Scoppiai in lacrime e continuavo a chiedermi «Come posso vivere così?» Loro avevano detto che avrei dovuto conviverci. «Dovetti andare in pensione per invalidità. La mia vita era fatta solo di dolori. Mi sdraiavo con i dolori, mi alzavo di nuovo con i dolori. La vita senza senso. Inutile per me stessa e anche per gli altri. Fu allora che la mia cara amica mi invitò a una conferenza informativa. Guarigione per via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning». «In due anni nulla cambia per Vera Beretic circa lo stato del suo braccio, però poi è un'esperienza drastica». «Ero proprio in un'ora di comunità a cui erano presenti oltre 50 persone. Mi presentai e mi sentii dire alla fine «Holle reglum, avverto l'odio in me e la sensazione di non poter perdonare. L'odio è un sentimento che davvero distrugge tutto». Di tutto questo non ero mai stata consapevole. Fu la prima volta che con tutto il cuore dissi «Bruno, amico mio, prendilo via da me». La mattina dopo mi svegliai. Una leggerezza, l'anima libera e avevo una piccola immagine in testa che il vero perdono è perdonare ciò che non si poteva più perdonare, compresi che il perdono è quando ci si libera dai pregiudizi, da questi pensieri verso qualcuno che ci ha feriti e al quale, invece di pensieri di odio, se ne inviano altri, pieni di amore. Solo quando divenni consapevole di questo odio, di questa rigidità mentale, di questa ferita, ottenni davvero la guarigione dalla distrofia di Sudec. C'era un grande convegno a Zagabria. Lì si sentì la voce originale registrata di Bruno Gröning. Mi strofinai il braccio e pensai «Ma questo non lo puoi fare». e all'improvviso subito l'altro pensiero «Fa vedere quello che ancora puoi fare». Poi chiusi la mano in un pugno e sollevai il braccio e pianzi come non avevo mai pianto neanche nei giorni più duri in cui ebbi dolori più forti. Ma la cosa più importante di tutte è che ricevetti forte il pensiero «Dio, tu esisti davvero». Fino ad allora non avevo mai creduto in Lui. Aspettai circa 15 o 18 giorni poi mi recai dalla mia dottoressa che mi aveva seguita per tutto il tempo e la pregai di visitarmi. Si ricordava di me e della mia diagnosi così dolente. Mi visitò tre volte e alla fine disse «Non è possibile! È impossibile! È incurabile! Non esiste! Io la pregai! Per favore, scriva quello che ha assodato!» Ella scrisse che la mia mano era perfettamente guarita, la reattività sensoriale era nella norma, la pressione della mano forte e robusta. Da quel momento la mia vita cambiò completamente. Grazie a tutti!